Sarà una marcia in più all'attività della vostra associazione, non so come è possibile perché più di così non so veramente come si possa fare, però veramente questi locali sono locali accoglienti che consentiranno a voi di svolgere ancora meglio il vostro lavoro, la vostra attività di vicinanza alle persone, alle famiglie che soffrono ma che hanno anche una prospettiva di inserimento che è la cosa più importante e quindi grazie Giuliano per tutto quello che fai e grazie a voi per il vostro lavoro.